Quel giorno mi sono vista un po' cadere il mondo addosso perché vedere via e portare via tante cose mi ha un po' destabilizzato. Era la notte del 6 settembre scorso quando a pochi giorni dal suono della prima campanella l'istituto comprensivo Margaritone era stato colpito da un raid di ladri che avevano saccheggiato la scuola di Pietricca. Nel bottino 100 tablet per un valore complessivo di oltre 70 mila euro. Immediato l'appello della dirigente scolastica alla comunità di Arezzo che ha prontamente risposto presente. Una vera e propria gara di solidarietà alla quale hanno partecipato genitori, imprenditori e aretini oltre che ovviamente l'istituto scolastico. Siamo riusciti appunto con la nostra richiesta a trovare una risposta come senso di appartenenza alla comunità. Questo è il messaggio che ci è pervenuto, quindi la scuola ha raggiunto il suo obiettivo. Grazie alle donazioni la scuola ha di nuovo a disposizione una settantina di tablet per i suoi ragazzi. Sono contenta perché la risposta è stata immediata e abbastanza consistente. Gli strumenti saranno un alleato soprattutto per i più fragili ma non solo. Il furto dello scorso settembre aveva infatti messo a repentaglio il progetto Classroom 4.0. Quindi una didattica integrata ovviamente, questo tendo a specificarlo. Quindi questa progettazione che vedrà coinvolte circa 14 classi tra la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria. Con le altre tecnologie che erano già a disposizione della scuola avremmo comunque supportato gli alunni che hanno dei bisogni educativi speciali e ampliato un po' quella che è la progettazione nel prossimo triennio. Ma c'è ancora bisogno di un ultimo sforzo. Serve comunque perché hanno rubato anche dei notebook. I notebook ci servono per utilizzare digital board oppure l'IM. Grazie.